Sicuramente è stata un'Italia molto determinata, siamo stati veramente molto più precisi, molto più accurati sui dettagli, soprattutto anche in attacco. Non l'abbiamo concretizzato in due o tre occasioni, però secondo me abbiamo fatto dei passi avanti rispetto ai test di novembre, e quindi siamo molto contenti da qui, di questo ripartiamo da qui. Delusione tanta, perché sarebbe stato bello fare un'altra metà qui in questo stadio con tutta questa gente, tutta questa emozione, tutti questi tifosi e soprattutto in quella parte del match sarebbe stato determinante perché non l'abbiamo fatta, è stato quel momento di esitazione tra me e Tommy che purtroppo alla fine ha girato un in avanti, però da lì non facciamo metà noi, ne prendiamo una un minuto più tardi, per cui siamo un po' rotta la partita, però ovviamente mi dispiace, tanto dispiace, dispiace.